Favorire l'incontro tra il mare e l'intelligenza artificiale per migliorare l'attività della maricoltura e incrementarne la sostenibilità è l'obiettivo del workshop organizzato dalla Fondazione Michelagnoli e la Camera di Commercio di Taranto per celebrare la Giornata Europea del Mare, istituita nel 2007 dalla Commissione Europea per valorizzare la risorsa delle nostre acque. Quest'anno abbiamo scelto come tema da trattare un tema molto attuale che interviene anche nel campo della pesca e della maricoltura, l'intelligenza artificiale. Tramite l'intervento di professori ed esperti del settore si analizzerà come la tecnologia possa aiutare la filiera della pesca, riducendone ad esempio i costi in continua crescita, ma non solo, grazie all'intelligenza artificiale si potrà guardare anche con maggior fiducia al futuro della maricoltura, un settore della produzione alimentare essenziale per la popolazione mondiale, ma messo a rischio dal cambiamento climatico, che ne diminuisce la capacità del mare di fornire pesce sano, buono e sicuro. Stiamo portando in giunta un'importante delibera per il riconoscimento dell'area marina protetta delle Cheradi. È una vera e propria sfida nazionale se pensiamo che ci sarà un'area marina protetta di fronte a quello che è uno dei più grandi siderurgici industriali d'Europa. Il cambiamento partirà proprio dalla città di Taranto, grazie alla valorizzazione delle sue coste. Taranto è una città che per troppo tempo abbiamo dimenticato essere una città sul mare e di mare, e che quindi oggi la riscopriamo e la riscopriamo nella innovazione dell'intelligenza artificiale. Iniziative come queste sono sicuramente, oltre che meritorie, sono sicuramente di indirizzo e di supporto al fatto che effettivamente tutta la comunità possa indirizzarsi verso il mare. La nostra vera e principale risorsa.